Che la forza sia con te, oggi cappuccio alla Obi-Wan Kenobi, magliettina di Star Wars, oggi è il 17, è tardi, sono le 23.15 e sono appena tornato dal film Star Wars 7, bellissimo, consiglio a tutti di andarla a vedere, non ha niente a che fare con l'episodio 1, 2, 3, che per quanto carini, però devo dire che questo è sicuramente molto molto più bello, Quel Gran Figlio di Troika di Kylo Ren, e ho voluto dare questo titolo perché veramente, quando lo vedrai poi capirai perché, Quel Grande Figlio di Troika di Kylo Ren, è la prosecuzione di Star Wars 6. Star Wars 6 finisce con Darth Fener che all'ultimo momento si ravvede, salva Luke Skywalker, che è suo figlio, e a un certo punto prende l'imperatore, lo ammazza, e alla fine Darth Fener muore, Luke Skywalker si salva, si salvano tutti, Ian Solo, la principessa, Lando Calerissian, si salvano tutti, c'è questo festeggiamento gioioso che finalmente tutto si è risolto, e arriva l'episodio 7, che è questo, l'episodio 7 è la prosecuzione di quello che è accaduto anni e anni prima in Star Wars 6, ed è molto molto bello, perché finalmente, per chi un old boy come me, c'è una stretta al cuore quando si vede Ian Solo che dice, Ciube, finalmente siamo a casa, e devo dire che io avevo qualche perplessità, in genere quando si fanno questi film si cerca di trascinare un po' la trama, tieni conto che Star Wars, questo è già il settimo film di Star Wars, insomma il rischio che faccia un po' cagare c'è, in realtà invece devo dire che Lucas e J.J. Abrams qui hanno veramente superato secondo me se stessi, poi ovviamente è sempre un fatto di gusti, c'è chi piacerà il film, chi non piacerà, ovviamente faccio notare che qui alle spalle c'è la Millennium Falcon, parcheggiata sopra la mia libreria, che mi è stata regalata per il mio compleanno, ormai diciamo che sto tornando indietro nel tempo, sto tornando ragazzino, ma va bene anche così. Perché è un film secondo me attuale? Perché appunto nell'episodio 7, dopo che c'è quel lato luminoso dell'episodio 6, nell'episodio 7 le tenebre tornano, che sembra quello che sta accadendo ai giorni nostri e che purtroppo se noi ci guardiamo attorno tutto sembra andare sempre verso più il lato scuro della forza che il lato luminoso e questo risveglio della forza secondo me vuole essere anche una metafora per tutti quelli che hanno voglia di fare in modo che ci sia uno sbilanciamento verso il bene e che è importante appunto che tutti quanti siano più consapevoli che c'è sempre un lato scuro che lavora affinché il bene non possa trionfare e quindi è per questo che è importante che ci siano più persone che lavorano per il lato luminoso, ok? Ecco, giusto, io devo per forza metterci un qualcosa di, diciamo, anche di più profondo all'interno del film. Ovviamente non farò nessuna rivelazione sul film se non quel grande figlio di Troika di Kylo Ren, che è il nuovo cattivo, che è quello con la maschera nera per intenderci, che è veramente un grandissimo figlio di Troika e che lo capirai quando vedrai il film perché sono abbastanza incazzato su questo, ma non dirò nient'altro. Il film è una grande metafora, come tutti i film di Star Wars, il lato luminoso della forza, della forza che scorre ovunque in ogni persona e in ogni essere vivente e che è ovunque. Se tu hai una certa visione della vita, comunque ti piacciono i film di fantascienza e soprattutto sei anche un old boy come me, direi che questo è un film che va assolutamente visto. Bene, ti mando un abbraccio grande, ci vediamo presto, al prossimo video, ciao!